Giorgio Mazzilli iniziò nel 1970 la realizzazione di motociclette da regolarità che ancora oggi mantengono delle caratteristiche uniche nel loro genere. Spinto dal desiderio di creare delle moto che fossero in sintonia con l'uso specifico richiesto dalla tipologia di gare, mise a frutto della sua esperienza di pilota e progettista. Verso la fine del 1969 concretizzò i suoi studi con un modello equipaggiato con un motore Sash 5 marce e nel 1970 furono prodotti i primi 5 esemplari. Successivamente, viste le richieste, la produzione venne incrementata notevolmente e nel 1972 il nuovo modello portò ad una produzione di circa 100 esemplari. La continua ricerca nel migliorare il prodotto portò Giorgio Mazzilli a progettare una nuova moto con linee moderne e caratteristiche sempre più performanti. Nel 1974 venne così presentata la nuova versione regolarità che adottava un nuovo serbatoio sagomato, i parafanghi in plastica e diverse innovazioni tecniche. L'ultima versione della moto Mazzilli uscì nel 1975. Montava il motore Sash 7 marce, un nuovo serbatoio in alluminio, nuove plastiche e nuove soluzioni tecniche che mettevano a frutto l'esperienza fatta negli anni passati. Una produzione limitata ed una meticolosità di costruzione fanno sì che oggi la Mazzilli sia un raro pezzo da collezione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.